Ragazzi nel negozio oggetto è tornata la vecchissima skin di Crackshot oh mio dio Io vi ricordo mi raccomando codice cap e ora andrò a regalarla ad uno di voi che mi segue sempre ed è attivo sul canale Oh mio dio raga hanno giunto che figata belli No raga questa variante di Crackshot è fantastica c'è anche la variante gold Ok e prima di tutto la acquistiamo ovviamente con il codice cap e la equipaggiamo E poi la andiamo a regalare a Mr. Nico che mi segue sempre e guarda tutti i miei video 3, 2, 1 let's go Goditi il tuo nuovo regalo bro grazie per essere iscritto al canale Mi raccomando raga codice cap e negozio oggetti ed iscrivetevi al canale Signor Calpi oggi ti voglio portare con me in una nuova sfida anzi una nuova ciale Vabbè che è la stessa cosa sono all'inglese vabbè volevo fare un po' il figo ecco La sfida di oggi sarà quella di prendere la mia prima arma segreta della season 5 Potremmo scegliere tra un po' di armi io so che alcune le hai provate E volevo sapere da te quale è secondo te appunto la migliore Ecco quale arma ti piace di più sostanzialmente Allora se devi la più divertente in assoluto secondo me Credo che sia il cecchino È il cecchino esplosivo Ok 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 il nuovo cecchino esplosivo della season 5 Ce ne sono altre di carine? Eh sì c'è pure la doppietta che è fortissima Però vabbè è un pompa straforte però non è così divertente Ok dici è noioso Ok va bene la doppietta non la proviamo Grazie Calpi mi hai convinto Mi hai convinto voglio il cecchino Calpi però io ti dico che mi mancano esattamente Oh cavolo no 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 adesso mi manca Complimenti Mi manca la vita come prima Dai ma piuttosto che sparare Ma guarda che infame No vabbè regà non ci credo No way Calpi Cioè piuttosto che sparare a me? No vabbè regà non ci credo Piuttosto che sparare a te sparava a me Regà ma stiamo scherzando Stavamo dicendo Ecco stavamo dicendo Calpi Quello che manca a me esattamente sono ben 50 di gold Ok ok aspetta che Ma qua davanti? Sì lo so lo so lo so Marto Perfetto l'altro Il suo amichetto Non lo so comunque non uccidere l'amico Perché dobbiamo fare l'oro Quindi prendiamo la taglia dal bot Giusto geniale Però aspetta lo vedo lo vedo lo vedo lì sopra Non sparargli poverino Vabbè vai tranquillo Lui voleva solo un amico e tu lo uccidi Ok te se riesci vai dal coso e metti la taglia Così a me ne vediamo tutto l'oro che ti serve 3 2 1 a lei Let's go Quindi lo devo fare per forza io giusto? No possiamo ucciderlo pure Ok quindi da l'oro comunque figata Ma c'è un altro nemico Ah no non è vero Non lo so come un altro nemico No no credo Calpino mi piazzo perché secondo me è saltato l'esame oculistico Perché scambiare l'nemico con un pano direi che la vedo complicata Porca Calpino ci spoglie Cavolo Ma l'ho quasi preso Calpino giuro L'ho praticamente preso Ma è morto è morto vai tranquillo Non diciamo cavolate Io ho girato un hit e l'ho quasi preso Ok Eccolo Ma questo qua c'ha la schiena di cavolo Tira fuori quella cavolo Ok niente niente Lui Calpino riesco a prenderlo Mannaggia la miseria Ok fermi tutti Fermi tutti Fermi tutti Aiuto Caccia fuori quella testolina Calpì No Un problema Sì Che cosa Calpì del tipo che non ti posso salvare adesso Vabbè ti lascio un po' di click Tranquillo ho un sacco di pesci Vai tranquillo Ok no vedo quanto effettivamente sia utile Calpì io ti consiglierei di scendere Boom l'ho ucciso uno Grande io ti consiglierei di scendere perché non posso scendere Cioè ci metterei troppo tempo Vabbè tranquillo ho un sacco di impulso Quindi vabbè Ma ne hai uccisi entrambi No ne ho ucciso solo uno L'altro è qua sotto Come è sotto Eccolo Sì è lì sotto Arrivo Calpì E qua e qua e qua Te l'ho pingato Ma dove No è sceso via Ho usato l'impulso Ehi niente 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 Troppo tardi Vai L'ho preso Hai attaccato la click Oh brevissimo Sì Let's go Oh mio Dio Let's go Che combo Let's go Certo che Calpì sto coso è veramente fortissimo Cioè è micigliale regà Calpì Calpì Oh ma chi è che spara Vai preso 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 uno Perfetto Oh Dio Magari questa vincita Alla amichetta Ma sei fortissimo questo cecchino E vabbè Calpì io sono forte con questi cecchino Non sono con questo Ti ricordo Preso di nuovo anche l'altro Eh vabbè Ma come c'è lo fai Mamma mia regà sto coso è micigiale Io li buscio Ciao ciao Grazie Calpì Sempre molto gentile Pensi sempre agli amici Veramente Veramente gentilissimo Pesso li buscio Dopo ti lascia le kill Ma che Ma sei certo Certo immagino quanto tu mi lasci le kill Sinceramente Oh uno è one shot C'è un altro team C'è un altro team C'è un altro team Dov'è Ah no non è un team Sono le guardie Mannaggia lui Ma mi ha fatto calire Sì comunque sono più forte di molte persone Tipo Calpì Tipo Calpì No no di me no è possibile Tenici tenici Calpì Guarda che non è Non è difficile Ma quanta vita stai perdendo Scusami Troppo anche perché ci sono Ste guardie che mi stanno stufando di Ho un nemico qua Aspetta Aia No ok pensavo di farlo esplodere con la Con la cosa Mannaggia loro Ma quanti cavolo sono Ma da dove mi spara Ok Oddio Cap Devi curarti No C'è un pesciolino Grazie 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 C'è la safe Andiamo in safe E lo so l'ho vista Calpì Cavolo Ok Oh ma ste guardie hanno rotto Sì infatti mi hanno veramente stufato Mannaggia loro Aia Cavolo Calpì Basta guardie Ma c'è un altro team Ma quanta gente c'è Oh uno l'ha atterrato Basta Ok Calpì Calpì mi sta sparando ancora Cioè è una roba pazzesca Quante sono Eh lo so Ma ste guardie sono assurde Ma no ma Non riesco più a capire chi è guardie E chi è vero Mannaggia regà No è una roba Calpì Non capisco chi spara Vai via da lì È troppo un casino Vai via Ho preso 25 questo Perché ho fatto 28 Adesso faccio anche esplodere 60 let's go Vieni qua Vieni qua Fusciamo questo Fusciamo questo Fusciamo questo È praticamente morto A meno che tu non abbia qualche cura Eh Eh beh io si ho cure Se vuoi curarti Vai Preso 31 30 Fermo qua Fermo qua che ho le chag Grazie Calpì Ti resta cavolo di ciò Ne ho tre Mamma mia Ok stanno scappando da me Eh Vai di impulso Preso 10 Vieni qua Vieni qua In questo punto 3 2 1 Via salta Let's go Ti ho impulsato un po' via Però vabbè Ho notato Calpì Ho notato Eccoli qua Lui non l'ho preso Ma fanno gli scattini Sì lo so ho notato Come fai a prenderli Con questi scattini Eh Calpì Se sono un fenomeno Comunque non è colpa mia Anche con gli scattini Vai Gli attacco la Klinger sopra Vai sparo Scherzavo 35 2 volte Non l'ho tagliata sopra Vai continuo a sparare Continuo ad attaccare le Klinger Ok aspetta un attimo Gli attacco la Klinger qui E poi continuo a sparare Via 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 Esploso tutto Dove cavolo è? Non lo so Comunque c'è anche Plum Cake qua Sì lo so Lo so Ho notato Adesso gli tiro Ah un altro team Un altro team Ma che cavolo Ok L'hai ucciso Te l'ho stilata un pochino Va bene Va bene Questa ci stava Calpì mi hanno check inato Da un'altra parte Non chiedermi da dove Voglio prendere un po' di cure Perché sono messo male Continuo a sparargli Continuo a sparargli Da di fianco Da di fianco Spara da di fianco Spara Da di fianco Vai Capisci di da di fianco Preso Questo era quello che gli avevo fatto male Oh sta andando via Mannaggia lui Ma attento all'altro team Fra che sono messo Sì lo so Mannaggia loro Dove cavolo sono? Morto C'è il team C'è l'altro team E' qua davanti uno Ok Davanti dove? Ma forse c'è solo Fra sei cercato però Amico mio Ma sono qua dentro Eh sì Ah Vai 35 Vai 2 volte 3 volte Morto Oh mio dio Raga Questa te l'ho stilata Perché era una situazione Un po' critica Sì certo E andiamo a fare La nostra vittoria reale Calpi Io comunque Adesso non faccio tanto il fenomeno Ma la vita non è che Si è messo così tanto bene Se devo essere proprio Io sono mini Oh guarda lì i nemici Guarda lì i nemici Prova se riesci a cecchinarli No Complimenti Forse io ho taggato una Klinger Però direi proprio di no Mi stavano provando a cecchinarli Anche loro Cavolo 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 Ha il cecchino di Mandalorian Come al cecchino di Mandalorian Ok quello è forte Quello è altrettanto molto forte Non come il tuo però Vieni qua che ho trovato delle splash Preso mi sa Sei sicuro che è al cecchino di Mandalorian Calpi Eh sì sì sono sicuro Ma dove sei Vieni qua Vieni qua alle splash È sceso è là Come là Cap lo devi cecchinare Vai tranquillo Calpi Quello è già mio È già morto Se tu lo guardi è già morto Pensa Immaginate lo defunto Calpi perché così Eh io l'ho guardato Ma lo vedo ancora vivo e vegeto Mi devi dare anche il tempo Rifarle le kill Che cavolo Comunque si sta nascondendo troppo Non riesco Aspetta cavolo Potevo cecchinarlo ora Ahia ma chi è che continua a spararmi Quell'altro sopra Mannaggia lui mi sta dando fastidio Ok si sta pushando Perfetto Buono Attento quello sinistra Quello sinistra Quello sinistra Cavolo dai Ho solo 300 di legno Come sono 300 Vabbè io sono a 140 di ferro Cavolo si è messi male Cecchinato 105 Grandissimo Perfetto Ok ora lui starà un attimo zitto Vai continua a sparargli Calpi E attacco una cricchierina Così tattica Giusto per Let's go Attento dietro Dietro c'è un nemico Cap Mi serve la tua mano E qua so Ok l'ho ucciso uno Perfetto Ucciso questo C'è il suo amico Ucciso questo in aria Cap non dovremmo fightare due team diversi Fucile soffio di drago Calpi È forte È il nuovo pompa Sinceramente non mi piace tantissimo Ok allora non lo usiamo Non lo usiamo Grande Calpi che ne ha ucciso uno Gli altri Vai perfetto Cavolo lo so L'altro Non lo so Non l'ho preso What Stai scherzando Ok corriamo in safe Corriamo in safe Veloci 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 che ci sparano Mannaggia loro Sento Cap Sì lo so Calpi lo vedo Due contro due contro uno Perfetto Quel team mi ha già rotto Cap adesso li pusho con l'impugno Vai 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 Mi ha stufato Grazie Calpi Mi hanno stufato Grazie Sono in high ground Geniale 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 Sì ok geniale il fatto che mi hai buttato fuori Non l'ho preso questo Mannaggia lui I pericoli del mestiere Gli sparo dal lato Ti è sparito da sopra ancora 33 È volato via Dove è andato Fuori safe Fuori safe è morto Ok buono Si è tirato una splash Ritorno in safe Un colpo e muore questo Calpi Un colpo e muore Continua a sparargli Bravissimo Ma dove è Ah eccolo qua sopra Vai Non lo vedevo Vai prendo la rig Morto Let's go Perfetto l'altro dove è finito Non lo so sinceramente In teoria è qua sotto Ma dove cavolo vanno Ho altre chug Come altre chug Quante ne aveva Ne aveva 5 Vieni Calpi Vieni qua No Ha riftato questo Riftiamo con lui Non me ne frega niente Dobbiamo vedere anche dove è l'ultimo Eh sì l'ultimo sarà sotto la sabbia Sicuro Calpi Attento Oh cavolo Ah morto No Pensavo di stilar Speravo di stilarla tra più che altro Ok l'ultimo dice che è sotto la sabbia Eh sì secondo me sì Però Devi fare un bel no scoop Col cecchino Ok no scoop col cecchino esplosivo Oh cavolo Ho tirato una cosa incredibile Allora se dici che l'ultimo è in mezzo No Ok Eri in mezzo la sabbia Ma è andato fuori safe Alla doppietta esotica Alla doppietta Quindi arma esotica contro arma esotica Vorresti dire Beh diciamo di sì Ah ah Sparigli Calpi Sparigli 35 bianco Un colpo Fra no scoop No scoop Io ho tirato il coso Dai che esplode No No come ho fatto non morire Let's go Let's go Calpi Vittoria con la nuova arma esotica Io mi ricordo Mi raccomando Rega Codice camp Dai ragazzi oggetti Solo per veri capitani E mi raccomando Non dimenticate di iscrivervi al canale E attivare la campanellina Per non perdere Tutti i regali che faccio in inizio del video Ciao 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 Ciao